ciao sono fabio e ho un progetto voglio fare una video recensione di un prodotto da pesca sportiva ogni settimana vi spiego meglio io ho 37 anni e da sempre vivo nella pesca sportiva i miei genitori hanno aperto un negozio nel 1971 ed io 15 anni fa ho aperto un'attività di distribuzione di materiali da pesca che si chiama big fish dal mio nome boscolo fabio perché questo progetto perché secondo me c'è parecchia confusione e è difficile per i pescatori scegliere i prodotti migliori dove andare a investire i loro duramente guadagnati soldini e spesso le informazioni che arrivano arrivano direttamente dalle aziende e per forza di cose sono delle informazioni molto commerciali quindi vorrei fare delle video recensioni obiettive dandovi proprio quello che è il consiglio da negoziante ho bisogno però del vostro aiuto di un piccolo aiuto ho bisogno di capire che questa cosa abbia un pubblico e abbia un interesse comune quindi vi chiedo di innanzitutto di iscrivervi al canale youtube che c'è qui sotto se vi iscriverete io avrò la possibilità di capire che la cosa interessa a molta gente e quindi potrò continuare a dedicare un giorno alla settimana anziché al lavoro normale al fare queste video recensioni inoltre seguitemi seguitemi su facebook seguite la pagina del negozio su facebook dove andrò a pubblicare le recensioni in anteprima e soprattutto interagite scrivetemi nei commenti cosa vi piacerebbe che andassi a recensire e condividete con i vostri amici questo video e le recensioni che farò in modo che sempre più gente interessata possa usufruirne in maniera totalmente gratuita ve lo ricordo un'ultima volta iscrivetevi al canale youtube non so che è una richiesta abbastanza noiosa da fare però questo vi permetterà di avere una piccola notifica quando effettivamente pubblicherò un nuovo video nel mentre vi ringrazio e spero che questo progetto possa andare avanti a lungo io da settimana prossima comincerò a fare una video recensione al giorno che non riguarderà solo il carfishing attenzione ma riguarderà la pesca in mare la pesca ai predatori il luccio il basso e quant'altro grazie a tutti e ciao ciao